Salve, io invece mi chiamo Iginio, io volevo parlare anche io dell'ambiente. Sapete tutti che l'ambiente è peggiorato a Napoli, che l'aspettativa di vita è diminuita, che l'inquinamento ha fatto aumentare il numero di morti. Allora, le proposte che abbiamo messo nel nostro programma per difendere l'ambiente sono anche quelle di rendere autosufficienti tutti gli edifici pubblici e i privati che lo volessero con degli impianti sul tetto, o impianti fotovoltaici o impianti eolici micro, nel senso che non si vedono e non deturpano quello che è la fisionomia del territorio. Questo qui si trasformerebbe in dei posti di lavoro per queste installazioni, nella diminuzione dell'inquinamento ambientale perché avremo meno caldaie per la produzione di energia. È un risparmio economico per il comune perché non deve più pagare l'energia elettrica all'Enero o all'altra società per tenere accesa la luce nelle scuole. Grazie. Grazie a te.